E io ero azzurro in una stanza, no, dopo una sera, che si combattivo, io avevo i partigiani E io ero azzurro in una finestra perché si sentiva qualcosa, no, e senti un colpo e si sparava con il mortoio, con il mortoio cip, no, si sparava e ho visto, e ho fatto un colpo, dopo senti un broglie, poi sono andato azzurro a dire, guarda che è parec, è parec, e non sono andato via, sono andato via, a mattina si è opinando, perché dopo a mattina ero i repubblicani e sono andato azzurro a via, da serenese, e ho visto i film e ho fatto capire, fu il tedesco, no, se non ho signorio tedesco, se ero italiano, e ho fatto capire che se ho trovato qualcosa mi risolvano con lui a casa e se non, su signorio, ho chiesto di dire che da oggi ho preso questo, io ho preso il pianeta, perché ho preso, e beh, però, ci sono una rivista, no, ci sono una rivista a Santa Rosa, i un locuro, i sono anche che ho va dire che era in lomburti, e allora mi sonavamo un pocciolando dal porco o da que'erciolando, tanto i mo' pio", i quelli ha sempre pensavo em posò un paio di nomi, no? E su ma' carriolun... Siona Enric Corpinani, se... se io ho portò nella costa allò, perché allora fai a costa a Teresio là, che fòva un putt fred, fòva un pocchio, fòva ruo, era caro. E poi, se pidan, se fossi un abitore di costa, ma portaron giù a cercare, voleva in esnùi, tutto fracassò. Miagò che con l'esnùi, es vien con due grudessi. Stanto ogni, 42, 45 anni. Però sono cose che si dimenticano più nemmeno. E più di stanto ogni. Sì, sì. Es vien con due grudessi, proprio tutte le grudessi, tutte le grudessi stancate, tutte le grudessi stancate, tutte le grudessi, le grudessi, tutte le grudessi, tutte le grudessi, tutte le grudessi, tutte le grudessi, e dopo quel porco hanno portato il cimitero e hanno trovato il cimitero. Ecco. Poi, in combinazione, mi sono molto interessato, ma poi niente ne va parlato, no? Poi una volta c'era una signora, la cattedra Giancarlo, c'era la banca che incitò, con la sua sorella. E la sorella del cimitero? Sì. Perché io si chiamava Caraglio il cognome, di Rudolfo. Capito. E dice che per il dia di Don Beron, con la presa, non ero piano portato a Rudolfo. E se non, quando c'era il cimitero, vedo che mi chiamava il cimitero perché lo sova nemmeno. Capito. E poi c'era la Caraglio. 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 Io ho fatto la carriera, un cimitero, un cimitero, un cimitero, un cimitero. Ah, sì. E questo è quello che mi sposò Luciano, Sorano Luciano, con la pasticceria via Ferrero.